Ok, e anche il libro di Stefano Menga, complimenti, caroli Francesca, allora Ferdinando, ti faccio premiare da Ferdinando Sallussio, complimenti, fatevi la foto, la foto anche con il dirigente e la professoressa Liliana Mola e il DSGA, e il libro anche a te, prego, complimenti. La serata si chiude così, cosa? Sì, allora Passola vi saluto intanto, grazie per averci ascoltati, grazie per aver partecipato a questo evento e al prossimo annuario di Stefano Menga. Prego Stefano. Grazie a tutti, volevo dirvi che sul lato destro là ci sarà un dolcetto e delle mozzarella fatte al momento, chi li vuole può avvicinarsi. Giusto perché noi il cibo c'è, non sappiamo che fare, insomma, quindi buon appetito anche con questo buffet offerto da Stefano Menga. Buonasera a tutti.